Cerimonia di consegna di una barella di biocontenimento per il Covid di Siracusa accristata con la partecipazione di Confindustria. Stamana alle 9.30 nel piazzale antistante al reparto malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa si è svolta la cerimonia di consegna di una barella di biocontenimento per eventuali trasporti di pazienti positivi al Covid-19. L'acquisto ha partecipato con una importante donazione Confindustria Siracusa grazie alla sensibilità delle aziende associate il cui presidente Diego Bivona è stato presente alla consegna assieme al direttore generale dell'Aspio di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra. Si tratta di una seconda barella speciale in uso all'azienda sanitaria dopo quella in dotazione all'ospedale Muscatello di Augusta donata dal comando marittimo Sicilia. L'ingegnere clinico ne ha illustrato le modalità di utilizzo al personale medico infermeristico del reparto malattie infettive diretto da Antonina Franco e sono stati presenti i direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino, direttori economico patrimoniale affari generale provveditorato Vincenzo Bastante, Lavinia Locurse e Danila Rosa, direttore medico di presidio Rosario Di Lorenzo e componenti del team aziendale per l'emergenza Covid-19. L'ufficio formazione diretto da Maria Rita Venosino ha programmato un percorso di formazione a piccoli gruppi in collaborazione con il reparto malattie infettive per l'addestramento del personale sanitario al corretto utilizzo. Grazie. Grazie.